benvenuti benvenuti bentornati in questo nuovo video ok il server si è subito scollegato perfetto comunque ci stanno oggi siamo sulla beta di infini wifi per provare appunto questo gioco in questi giorni vi porterò tantissimi video su questo gioco se ce la faccio giustamente a portarvi tantissimi video non siamo qui come sto parlando comunque sono abbastanza emozionato perché questo gioco io ho visto il tale ho visto tutto su questo gioco ho visto il tale sinceramente non mi è piaciuto tanto ho visto il gameplay e mi è piaciuto tantissimo perché alla fine è tipo qualcosa di simile a black copster ma un pochetto più organizzato dato sto cercando una partita speriamo di trovarla abbastanza presto sperando che uno non laghi e 2 è affatto più bene intanto subito sulla mappa a frontiere vediamo un po come qui come si situazione la gente proprio adesso ne sto facendo la prima partita perché questo gioco deve uscire alle 7 di straserie alla fine adesso sono dei 9 uscire due e dopo dei problemi di serve comunque vediamo un po se incomincia questa partita se non comincia ragazzi ci vediamo subito la prima partita di oggi qui ragazzi eccoci qui in partita subito qui la parte iniziale tutta bella organizzata come prima partita che usano una mano male vogliamo questa vediamo un po come quest'arma intanto sono con le cuffie spettacolo già qui che ti puoi muore puoi cambiare ma non ho spettacolo già in culo potremo fare i salti di qua di là tutti i cazzo amario vedere un po come ci stanno i movimenti intanto il movimento già mi piace già più carino del black ops 3 speriamo che non ci deludea quest'anno vediamo un po vediamo un po ok adesso già si è fatta una doppia che cazzo bellissimo olè oddio raga è tipo qualcosa di favoloso soprattutto il movimento come vi ho detto mi sta piacendo un molto qualcuno quindi senza cercare di fare una regia oddio bellissimo mi sta piacendo il movimento il primo code che mi piace così tanto il movimento ok questo uguale a black ops 3 vediamo un po qui che cosa ci sta un gioco davvero assoluto venga non me lo aspettavo un po così poi ne vanno un pochetto verso la fine ok perfetto da dietro comunque ricordare in questa prima partita oddio quando fatto la spiaggia sono se non mi sbaglio bello bellissimo aggancio c'è mi piace l'aggancio pure ci stanno qui i salti questi qui sul muvio ok perfetto vediamo un po qui perfetto mi sta piacendo tanto oddio mi stavo ammazzando da solo perfetto ah il tempismo comunque adesso i primi rignoni uno movimento ha fatto più bene secondo me poi non so se mi sbaglio vediamo se ce la faccio a fare un buon risultato no cambierà ma forse attacca mette prestigiatoia oh mi jesus la vibra la vibra 18.8 che vibra oddio sono esploso ah se scaletto non mi piacciono tanto e vabbè ma il tempismo è una cosa assurda vabbè ancora devo conoscere la mappa non muoio ah mi sono saltare in terza comunque mi sa 12 o 11 per adesso ma dai ma quanti sono comunque faremo due partite no vabbè di ruarci un pochetto di più che sino questa qui è la prima che sto dì io me li trovo sempre dietro non so il motivo cazzo no venga cioè sto muovendo e basso non mi piace tanto questa cosa comunque si vede che è lexo dio qua c'è sta una si vede che è lexo è molto più lento niente niente parca puttana giocano tutti quelli là che hanno giocato tantissimo a black ops e alcuni mi stanno aggando poco il culo niente ma che cazzo oddio cos'è questa cosa da dietro sempre da dietro oh ste bombe mi hanno rotto le palle o so io che parca puttana muoio subito da una bomba oh po' mi hanno rotto le palle vediamo un po' cosa possiamo fare oh che cazzo niente niente io non capisco sono tutti fermi i nemici mentre l'università muove puoi fare i compagni i nemici so io chi sta poi puoi puoi fare i nemici poi puoi fare i nemici poi puoi fare i nemici poi puoi fare i nemici nooo vabbè sono morto come in salame ma come cazzo è possibile ma che cazzo fermo c'è spero come fa cambia un po' la venda ha usato il cecchino che dicono quest'anno è spettacolare niente raga hanno preso lo c e a non ci sta accadendo niente no 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 sta bomba ma io ho tutto e quattro di palle no raga peccaità i cecchini poi li useremo e ho sbagliato arm vabbè provamola questo è tipo il migliorione niente io non capisco come cazzo è possibile che sto morrendo così tante volte che cazzo sta succedendo da dietro niente da due fatti di pezzi ma i compagni ma è sempre io che ho i compagni down su sto gioco niente oh madonna stanno ovunque ma cos'è che niente io che l'arma ho preso prima da questa cioè non me ci trovo con nessuno cioè è difficile stiarmi questo niente assist in due mi sono venuto nel dorso perfetto comunque manca una kill e abbiamo vinto perfetto finito quindi quindi ho fatto 20 30 proprio lo schifo più totale come prima partita però ci sta come prima partita ho fatto pure la killcam è abbastanza carina comunque ragazzi come prima espressione che oh questo è figo è diverso da quello di black ops 3 è più carino comunque come prima opinione si può dire di questo gioco per adesso i movimenti sono fatti benissimo è fatto tutto bene ma ti hanno appunto le armi le armi ancora mi ci devo trovare quindi non ne posso tanto eh non ne posso tanto criticare o tutti i cazzi vari ehm però ehm ehm ancora tocca cioè mi devo prendere ancora abitudine quindi ancora non posso alla fine proprio giudicarlo per questo qui e niente ragazzi poi i spawn cioè i spawn sono fatti pure bene però io che sto coglione che sono il nostro spawn nemico ehm quindi ancora devo studiare ancora tanto bene questo gioco però per adesso il movimento e altre cose sono fatti benissimo mi sta piacendo già tantissimo come tutti quanti come vedete già stanno giocando questo gioco gli amici miei ehm sono contento comunque che cioè spero che questo gioco vada bene no? come come all'inizio come ho fatto anche io stesso che l'ho criticato per niente perchè alla fine il TLA i TLA sono una cosa perchè io questo gioco lo diavano al TLA poi ho visto appunto un gameplay così in generale mi sta piacendo abbastanza e adesso mi sta proprio piacendo che l'ho provato e mo in questi giorni mi cerchiuterò tutto a palla e spero di fare voi tanti video vediamo un po' comunque ragazzi spero il video vi sia piaciuto se è così lasciate un bel like un commento iscrivetevi al canale ci vediamo un prossimo qui l'ho portato tutto bella